Ciao a tutti e benvenuti a Amazon Man, io sono Gesù e sono qua oggi con un'altra recensione di un prodotto che ho acquistato su Amazon.it. Si tratta di Purple Rain in Blu-ray. Io l'ho visto questo film tanti anni fa conoscito nel cinema nel 1984. Siccome siamo sotto Natale ho pensato che questo potrebbe essere un'ottima idea per una gala di Natale. con grandi fan di Prince, tipo mia moglie. Ho riguardato questo film recentemente, posso dire è molto bello ed è adatto a tutta la famiglia. Siccome questo film è in versione Blu-ray e video in audio sono ottimi, potete godere al massimo la musica di Prince che è protagonista di questo film e ne cura anche del colore sonore con tutte le sue canzoni di successo tipo Let's Go Crazy, Wind Doves Cry, I Would Die For You e Purple Rain. Questo film qua nel 1985 ha vinto un Oscar per migliore colore sonore e un paio di settimane ha vinto un... American Music Award sempre per la stessa categoria. Ti do un po' di info su questo Blu-ray e quei contenuti. i lingue su questo Blu-ray sono inglesi, francesi, tedesco e spagnolo. Sottotitoli ci sono italiano, inglesi, francesi, tedesco e spagnolo. Il durato di questo film è 111 minuti. Poi ci sono i contenuti speciali, ci sono vari contenuti speciali. Purtroppo non c'è in lingua italiana su questo film, non è mai stato prodotto in italiano, ma siccome il film è musicale anche guardandolo in inglese è abbastanza facile da comprendere. Vi consiglio questo film per tutta la famiglia, soprattutto i fan di Prince. Io in fondo a questo video lascerò la trama, se siete interessati a leggere la trama di questo film la lascerò in fondo a questo video. Se avete trovato questa recensione utile, iscriviti al canale, metti un mi piace e poi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! 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 Grazie a tutti.